Manca poco più di un mese all'avvio delle attività dei ricrestate e dei centri estivi organizzati dal Comune di Trieste. Quest'anno l'offerta è stata migliorata, basti pensare ai circa 2 milioni di euro stanziati per il potenziamento dell'offerta in termini di posti a disposizione e attività didattiche e ludiche. Come sapete ho voluto mettere ulteriori fondi sui centristini arrivando a degli stanziamenti record storici mai visti nel Comune di Trieste grazie all'impegno che ho profuso e grazie anche ai colleghi di Fratelli d'Italia, devo dirlo. Quindi riusciremo a dare una risposta chiara alle famiglie e in più grazie ai risparmi di gara riusciremo a dare ulteriori due sedi di centro estivo a fronte di tantissime domande. Quindi amplieremo ancora di più i posti a disposizione per i centri estivi comunali. Le attività di centro estivo per i bambini in età di nido e scuola di infanzia avranno inizio il 3 luglio e termineranno il 25 agosto, articolati in quattro turni bisettimanali di 10 giorni ciascuno con interruzione nel giorno di ferragosto. Per le fasce d'età di scuola primaria le attività di centro estivo partiranno il 14 giugno per un primo turno settimanale, per poi proseguire con altri sei turni bisettimanali fino al 25 agosto. In merito ai ricrestate inizio mercoledì 14 giugno e termini e attività il 1 settembre con 11 turni settimanali a cui va esclusa la settimana di ferragosto. Ricordo sempre che oltre ad avere delle tariffe molto agevolate soprattutto se penso ai ricrestate sarà possibile chiedere anche per questo tipo di servizio il sostegno della dote famiglia regionale.